Ed ora parliamo della fiesta da Patria e dal Friul che il 3 aprile del 1077 vedeva la costituzione dello Stato patriarcale friulano. Esattamente il 3 aprile di quest'anno si tornerà a celebrare la ricorrenza e il comune scelto per l'organizzazione degli eventi è quello di Vito D'Asio. Vito D'Asio si sta preparando ad ospitare la 45esima edizione della fiesta da Patria e dal Friul. Sì, è una scommessa, è una scommessa che ci rende molto felici e molto anche in ansia fino a domenica perché stiamo lavorando, c'è una bella equipe che sta lavorando per essere pronti. Ricordiamo alcuni dei principali appuntamenti previsti. La festa del Friul ha un suo canevaccio ben preciso, c'è la parte religiosa che è importantissima, c'è la parte istituzionale e poi c'è la parte in cui il comune ospitante presenta le sue bellezze. Allora noi partiremo il sabato sera presentando i poeti della Val d'Arzino, che è un movimento culturale molto importante, che ha avuto riconoscimenti al Quirinale, ha preparato un pezzo sulla nascita del Friuli, un pezzo veramente straordinario che invito a venire a vedere perché è un qualcosa che vi stupirà. E poi l'introduzione sarà fatta dalla scuola di musica di Anduinz. La domenica invece abbiamo diviso in due frazioni, a Vito d'Asio, la frazione di Vito d'Asio ci sarà la parte religiosa, quindi una prima parte istituzionale, l'alzabandiera, gli scampanatori e poi la chiesa nella parrocchiale di Vito d'Asio che è fantastica. Poi ci trasferiamo tutti a Casiaco, l'auditorium, dove si terrà tutta la parte istituzionale in cui ci saranno i discorsi, gli alzabandiera, la bolla, eccetera, eccetera. Dopo i pranzi i quattro ristoratori del Comune hanno preparato dei menù particolari, anche con prezzi particolari, poi abbiamo scelto cinque siti culturali, Castello Cecconi, la Pieve di San Martino, altro piccolo tesoro, la montagna di Anduinz dove c'è il monumento alla moglie dell'emigrante, quindi alla Mari del Friuli, è un posto meraviglioso dove si vede il mare, poi ancora le grotte di Pradis che verranno riaperte per l'occasione.